Annuncio non rivolto a Novax. Ha creato moltissime polemiche. L'annuncio immobiliare è presente su un noto sito di vendita delle case che riserva la possibilità di affittare un immobile, nello specifico un bilocale a soli vaccinati. E' accaduto a Mondello e in poche ore lo screenshot del messaggio ha fatto il giro del web alimentando molte polemiche. L'annuncio è stato poi eliminato ma ciò che fa discutere è che la frase annuncio non rivolto a Novax è stata scritta in stampatello maiuscolo come se l'inserzionista volesse mettere bene in evidenza che fosse un elemento fondamentale ai fini dell'affitto o meno dell'immobile.